Hai due nuovi messaggi Ho un lavoro fatto apposta per te, amico Ti terrai impegnato per un bel pezzo, un vero sballo Chiamami Pronto? Sono io Ok Finora sei andato benone Vediamo come te la cavi adesso Ho un problema con un uomo d'affari È convinto di non dover più pagare per ottenere la nostra protezione Dovremmo rispiegargli tutto di nuovo Sembra che sia un po' duro di comprendonio Beh, padrone di una catena di ristorante in città Diciamo che gli ho promesso una visita in ognuno dei suoi locali entro la fine del pomeriggio Devi visitarli uno per uno Non avrai troppo tempo, ma devi farcela ugualmente Tutto chiaro? Non avrai tantissima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.